Con il professor Ballarini oggi parliamo di un problema di cogente attualità. Ieri, oggi e domani quali carni? Basta aprire il giornale, guardate la televisione, tutti quanti discutono sul problema delle cosiddette carni sintetiche, ovvero sia delle carni coltivate, in un modo o nell'altro. Io penso che sia opportuno fare qualche considerazione a un livello un po' più alto, a vedere di come questo nuovo problema si posiziona, direi, quasi nella nostra evoluzione. Noi nel passato abbiamo avuto delle carni selvatiche, selvaggine, che potremmo dire biologiche secondo la biologia, poi sono arrivate le carni domestiche, ossia quelle delle animali allevate, e allevate con le diverse tecnologie, quindi carni tecnologiche. Adesso vi è anche questa nuova possibilità. Com'è avvenuto questo passaggio di questi tre tipi di carne? Non è facile poterlo dire, però fin dall'antichità, quarto secolo avanti Cristo, Democriso di Abdera disse che l'evoluzione avviene secondo il caso e la necessità. Caso e necessità. E' un termine che è stato ricavato recentemente anche per altri aspetti della biologia, ma da Monod, ma io penso che possiamo anche applicarlo a questo tipo di evoluzione che avviene in tutti i settori. Vediamo un attimo come noi ci spostiamo. Ci siamo spostati per 200.000 anni a piedi, poi abbiamo scoperto il cavallo, siamo andati a cavallo, e con il cavallo abbiamo incominciato a cavalcare e quindi a utilizzare per i nostri spostamenti. Poi a questo cavallo abbiamo attaccato un attrezzo con quattro ruote di legno, la carrozza, e quindi siamo passati al vegetale. Questa carrozza però è diventata anche di metallo, è stata alimentata con un carburante biologico, perché la benzina è limitata che un residuo di animali che sono vissuti da tanti anni fa. Oggi vogliamo invece passare a un carburante completamente sintetico, ovvero sia l'elettricità. Quindi siamo passati da un biologico a un tecnologico. La stessa cosa è capitato e capita con come abitiamo. Abbiamo incominciato ad abitare sotto delle capanne di foglie, poi dove abbiamo fatto delle case di legno, poi dove abbiamo fatto di minerali, e oggi le grandi case sono fatte di ferro e vetro, quali sono i grandi grattacieli. Quindi c'è un'evoluzione, direi, dal biologico al tecnologico in tutto. E questo sta avvenendo anche per l'alimentazione, perché gli uomini cacciatori e raccoglitori mangiavano le carni selvatiche, gli uomini allevatori e agricoltori hanno incominciato a mangiare le carni di animali allevati, gli uomini tecnologici sono quelli che hanno incominciato a pensare di produrre degli alimenti con le nuove tecnologie. Questi alimenti con le nuove tecnologie non sono nuovi. Qualcuno dice come non sono nuovi? Eh, certamente, scusate, ma il pane come l'ho ottenuto? L'ho ottenuto tramite dei sistemi di fermentazione, che sono delle tecnologie biologiche, ma sono delle grandi invenzioni. Non per niente, Omero distingue coloro che sono uomini che mangiano il pane e quelli che non mangiano il pane che non sono neanche uomini. Era un po' nazista, dobbiamo dire. Però lui, dal suo punto di vista, diceva che chi aveva la tecnologia di trasformare la farina in pane era più elevato, aveva maggior capacità e quindi era, virgolette, più uomo di quelli che non avevano queste capacità. Ma non dubbichiamo che le tecnologie di fermentazione non riguardano solo il pane, ma riguardano anche la birra e soprattutto riguardano anche il vino. Vino e pane sono dei prodotti delle prime tecnologie. Altre tecnologie abbiamo applicato ancora più raffinate, estraendo dal vino l'alcol e quindi inventando, siamo nel 1400, più o meno, anche il liquore. E poi dopo, se andiamo a vedere i formaggi, se andiamo a vedere i salumi, tutte quante una serie di tecnologie alle quali ci siamo abituati. E' vero che sono tecnologie in cui i microbi non li vediamo, sono dentro al cibo, però anche queste hanno una, così, loro importanza. E oggi siamo arrivati anche a vedere delle bevande sintetiche. Pensiamo alla Coca-Cola, ma soprattutto anche a quelle bevande energetiche che sono pubblicizzate e soprattutto utilizzate dai giovani con le varie composizioni. E ultima arrivata, abbiamo perfino modificato il fumo. Noi fumavamo il tabacco, quindi era un vegetale che veniva trasformato in fumo che ne lavavamo. Adesso ci sono quei VAP o SWAP in cui vi sono questi fumi completamente sintetici. E di questi ne parliamo molto, molto poco. Però vedete come questo passaggio dal biologico al sintetico sta invadendo non più solamente l'abitazione, come vi ho detto, o altri aspetti, o i trasporti, ma sta invadendo anche l'alimentazione. E allora capite che in questo modo noi ci troviamo poi più preoccupati per un altro motivo. Perché se l'abitazione e il trasporto erano fuori di noi, quando parliamo di cibo è dentro di noi. E allora fra il fuori e dentro sono comprensibili certe preoccupazioni, diciamo così più psicologiche, ma però molto, molto importanti. E quindi il divattito fa andare su un'automobile alimentata benzina o elettrica, o mangiare un cibo biologico o sintetico, la differenza è notevole. E allora vediamo un pochettino che cosa sta capitando nell'alimentazione di questi nuovi alimenti. Anche qui non è una cosa nuova, perché già a metà del 1900 ci si è accorsi che si potevano coltivare grande quantità di lieviti o grande quantità di microbi e questi microbi o questi lieviti coltivati avevano delle composizioni interessanti. Perché il lievito poteva avere grandi quantità di proteine o contenere anche quantità di vitamine, eccetera. Per cui si è incominciato a pensare di creare delle masse, diciamo così, di materiali, di origine batterica o di origine di lieviti, ad uso alimentare. Questi tentativi sono però, diciamo così, non dico falliti, ma sono accaduti per dei semplici motivi economici. I lieviti che su cui si voleva produrre del cibo erano lieviti coltivati sulle parafine, che era un sottoprodotto del petrolio, quando il petrolio costava 7 euro al barile. Quando il petrolio è arrivato a 50-100 euro al barile, si è accorti che produrre cibo costava molto di più che non coltivarlo. Per cui la soia ha vinto, la soia coltivata ha vinto, da un punto di vista economico, la proteina prodotta dal petrolio che veniva a costare molto di più. Quindi il fattore economico ha avuto una notevole importanza. Oggi le tecnologie di coltivazione dei microbi, dei lieviti, sono evolute e oggi possiamo coltivare anche le cellule. La coltivazione delle cellule è abbastanza recente. Io direi che a metà degli anni 70-80, quindi direi 50 anni fa, sono i primi tentativi. Questi primi tentativi di coltivare qualche cellula erano stati fatti per coltivare su queste cellule coltivate i virus. E quindi la microbiologia e la virologia è stato il passo per ottenere queste prime cellule coltivate, piccole quantità, in piccoli matracci. Poi ci si è accorti che per produrre i vaccini era necessario coltivare molte cellule per avere poi dopo molto virus o estratti di virus per fare i vaccini. Quindi la coltivazione, il caso, ecco la parola che viene, il caso di coltivare grandi quantità di cellule dentro enormi fermentatori per produrre i vaccini, e il risultato è stato la vaccinazione di miliardi di persone contro il Covid. Perché se non ci fossero state queste enorme coltivazioni di grande quantità di cellule per ottenere ciò che poi interessa per i vaccini, non si sarebbe potuto vaccinare. E allora, qualcuno dice, va bene, ma tutte queste cellule coltivate, perché non le mangiamo? E allora, di conseguenza, alla coltivazione cellulare sul enorme fermentatore, è venuta questa idea. E si è visto che partendo da delle cellule staminali si possono ottenere delle masse di cellule che ricopiano perfettamente certe caratteristiche delle cellule che noi troviamo dentro al muscolo o altre parti. Dico altre parti perché oggi si possono ottenere delle masse che ricopiano il muscolo dei vari tipi di animali o dei pesci, ma anche il fegato, il fegato grasso. Oppure, qualcuno comincia a vedere anche qualche cosa come il latte, quindi si può vedere la produzione di cibi che hanno le stesse caratteristiche sensoriali, nutrizionali, eccetera, dei cibi in virgolette ottenuti direttamente dagli animali. Quindi, carni e nel futuro possibile anche latte senza animali. Questa situazione è abbastanza sconvolgente perché noi siamo abituati a un certo tipo di naturalità. A chi può interessare questo? Beh, per esempio può interessare a certe piccolissime nazioni ricchissime di soldi e molto popolare come, ad esempio, potrebbe essere a quel che capita a Singapore che Singapore dice noi siamo qui ristretti, un piccolo spazio e qui abbiamo molti soldi invece di creare degli allevamenti grandissimi e pieni di maiali noi facciamo queste portaini. Ecco, il motivo per cui in questa situazione in questo caso e a questa necessità particolare può essere interessante anche perché coloro che abitano a Singapore soprattutto le nuove generazioni hanno perso il contatto con la natura perché come questa popolazione di Singapore che vive in una città solo di vetro, ferro e cemento che si muove solamente con macchine prevalentemente a trazione elettrica e quindi che di natura le avete solamente attraverso il computer non ha nessun proprio problema di mangiarsi un cibo prodotto da fermentazioni di cellule quindi vedete come la situazione è ben diversa è ben diversa da chi? da popolazione africana nel quale vivono in mezzo alla natura e soprattutto che hanno dei redditi economici molto più bassi oppure da popolazione come le nostre che ha delle forti e profonde tradizioni con la natura con i ricordi ancora dei propri genitori dei propri nonni che vede la campagna continuamente per cui abbiamo una situazione molto molto diversificata allora c'è da chiedersi ma questi nuovi cibi che futuro avranno? beh certamente non si può fare non si possono fare previsione però vi è un dato di fatto che è molto probabile che rimarranno ma non rimarranno per tutti ma rimarranno per alcuni e in questo caso la parola necessità diventa molto molto importante ovviamente l'uomo mangia qualunque cosa però che i cinesi mangiano gli insetti non è obbligatorio che li mangiamo anche noi che noi mangiamo i salumi di maiale non è obbligatorio che li mangiano anche gli ebrei o i musulmani quindi vedete che ci sono delle condizioni già in atto per cui non esiste forse quasi nessun cibo mangiato da tutti anche perché non dimentichiamo che fino a poco tempo fa i funghi non erano mangiati da molti perché erano tutti pericolosi e nessuno si stupisca i tartufi erano considerati un cibo che non voleva niente perché oltre quel che si tira la puzza non davano nessun alimento oggi invece il tartufo è diventato tutta altra cosa quindi vedete come la struttura culturale determina il successo dei vari cibi quindi è da ritenere che le cellule coltivate avranno una presenza futura che dovrà essere molto bene calibrata agli aspetti culturali economici e queste condizioni perché questo avvenga sono necessarie per alcuni passi innanzitutto sarà necessario il passo della dimostrazione della loro sicurezza del loro costo e della loro qualità qualità la quale è diversa io recentemente ho visto che ci sono delle ricerche ad esempio di cellule coltivate e che hanno portato alla formazione di un effetto grasso di foie grasso e dicono così che è accettabile e voi capite che sul effetto grasso vi sono delle grosse polemiche per evitare il modo di produzione tramite il gavase delle ocche però è un cibo di grande prezzo e quindi è possibilissimo che anche la produzione industriale possa benissimo costare meno del fuagrase e quindi competitivo la stessa cosa sta capitando per il caviale voi direte ma il caviale il caviale non è un cibo per tutti il caviale è un cibo che ha una una destinazione molto ristretta una gastronomia però esiste un certo mercato voi capite che se si potesse le prime prove ci sono già fare un caviale ottenuto per coltivazione in grandi tank voi capite di buona qualità è un mercato che può venire fuori evidentemente il fuagrase e il caviale coltivato non risolvono il problema della fama del mondo però sono un piccolo settore d'altra parte tutti quanti vogliano l'automobile però le Ferrari quanto costano però il mercato delle Ferrari esiste quindi vi è un futuro che si metta insieme a questo un'ultima considerazione è quella ma va bene ma questo cosa farà sul nostro attuale tipo di produzione ovvero sia sono le nostre carni virgolette naturali biologiche niente sono dei mercati assolutamente paralleli anzi domani potremo avere che sul banco dei supermercati nel settore carni ci potrà essere ci dovrà essere la carne prodotta nei pascoli le carne biologiche la carne prodotta in allevamenti più o meno intensivi e negli scaffali anche i barattoli con il caviale o con il foie gras coltivato quindi un mercato molto differenziato evidentemente questi tre tipi avranno prezzi diversi per persone diverse e anche per mercati diversi per cui pensare di trovare nel centro america o nel centro africano o trovare nel sud america queste nuove carni sintetiche mi sembra che vi dovrà forse aspettare qualche secolo mentre trovare da noi è una cosa diversa quindi non dobbiamo pensare da un punto di vista solamente estremamente nostro per cui la presenza di questi cibi non è che sia contrario anzi può essere un elemento di valorizzazione della nostra produzione per cui si può dire se vuoi mangiare la pizza con la coca cola va benissimo però sarebbe meglio mangiarla con un buon bicchiere di vino la coca cola non ha ucciso il vino anzi ha migliorato la qualità dei vini quindi domani ci troviamo di fronte probabilmente a una pizza che a sopra o se costasse molto poco una fettina di carne coltivata e un'altra pizza con un buon prosciutto di parma capite che sono due pizze diverse e quindi anzi le due diversità migliorano l'immagine e l'utilizzazione del nostro biologico grazie professore